Il questore Bruno Megale lascia la questura di Caltanissetta per ricoprire un prestigioso incarico. Dal primo marzo non sarà più qui. Oggi vuole salutare ufficialmente i nisseni. Sì, assolutamente sì. Volevo veramente ringraziare tutta la comunità nissena per l'accoglienza e per il rapporto meraviglioso che ho avuto in questi quasi due anni di mia permanenza in qualità di questore di Caltanissetta. E' un ricordo di questa città che porterò con me sempre, non solo perché è stata la mia prima esperienza da quest'ora ma perché ho trovato una città vera, una città generosa, fatta di persone molto sincere, di persone molto dirette che mi ha arricchito tantissimo. E consentitemi soprattutto di ringraziare i miei funzionari e i miei poliziotti. personale eccezionale, personale squisito, personale con una grande dedizione al lavoro che mi ha consentito di portare a casa dei risultati eccellenti anche da un punto di vista professionale di crescere come uomo e come funzionario di polizia ed è soprattutto grazie a loro, a loro sacrificio, a loro dedizione che oggi io posso dire orgogliosamente di essere stato il questore di Caltanissetta. Sono stati anni molto difficili devo dire per me. Primo perché era la mia prima esperienza da quest'ora in una realtà che non conoscevo quindi ho dovuto studiare tutte le problematiche connesse alla sicurezza di questa realtà. È una città molto complessa che ha tutta una serie di problemi anche abbastanza difficili non solo legati alla presenza purtroppo pervasiva di queste organizzazioni criminali di tipo mafioso ma anche problemi connessi al degrado, connessi alla mancanza di lavoro quindi problemi anche di ordine pubblico. Quindi comunque è una città che assomba tutta una serie di problematiche ma al tempo stesso anche è una città che ha delle realtà virtuose d'eccellenza comunque uno spirito combattivo quindi io credo che Caltanissetta possa avere veramente la possibilità nel futuro nel futuro di risollevarsi e di risollevare le proprie sorti. Qual è l'incarico che andrà a ricoprire? Andrò a ricoprire l'incarico. Il capo della polizia ha pensato di mandarmi a dirigere la quinta zona polizia di frontiera che è un incarico interregionale di coordinamento dell'attività di frontiera sia terrestre che marittima che aerea del Lazio, della Sardegna e dell'Umbria. Quindi un po' mi occuperò prevalentemente di problemi connessi alla sicurezza e al terrorismo all'immigrazione ovviamente anche oltre che tutta la gestione è un'incarica abbastanza importante quindi sono molto contento e anche molto entusiasta di andare a rivolgere questo nuovo incarico. Certo lascio la città con un grande magone devo dire perché ho trovato in questa realtà veramente delle persone vere, autentiche che mi hanno arricchito molto. Quindi porterò con me il ricordo dei miei poliziotti di Galtanissetta, di Geletini Scemi che sono veramente degli entusiasti del lavoro e porterò soprattutto con me il ricordo di una città che mi ha dato tanto.